Ciao amici, sono LOX, bentornati sui fatti di opinioni di LOX, il canale per i veri malati di sport, e non avremo l'attesa finale Olimpia-Milano-Virtus-Bologna nelle Final 8 di Coppa Italia. Infatti al termine di una partita sconcertante per certi aspetti, la Virtus è stata asfaltata completamente dal Dertona, dal Tortona, che con una grande vittoria, 94-82, stesso punteggio peraltro che nei quarti di finale contro Trieste, ha vinto, ha vinto meritatamente e andrà a affrontare nella finale di oggi l'Olimpia-Milano. Una partita, come diciamo, piuttosto sconcertante per certi versi, perché ha dimostrato una volta di più tutti i difetti che questa Virtus, per quanto, abbiamo detto tante volte già in questa stagione, raramente al completo, però è una squadra che ancora non ha una sua identità soprattutto difensiva, ha momenti di buona pallacanestro uniti a momenti di pallacanestro disastrosa, in questo caso ha preso subito il parziale nel primo periodo e sostanzialmente non è mai riuscita a rientrare. Tortona ha giocato una pallacanestro bellissima, godibilissima, precisissima da tre punti, alla fine del terzo quarto era già a 80 punti, ne ha segnati solo 14 nell'ultimo quarto, dove ha tirato un pochino peggio anche proprio come scelte, ha giocato con il cronometro, però è stata fondamentale nella lotta sotto i rimbalzi, perché quando la Virtus ha avuto la chance di riaprire la partita nel quarto periodo, Tortona ha recuperato tutti i rimbalzi offensivi che poteva e in questo modo si è sempre data una chance in più, addirittura c'è stata un'azione dove ne ha presi tipo quattro consecutivi, siamo rimasti 40 secondi nella metà campo di attacco di Tortona. La Virtus ha giocato una partita veramente mediocre, veramente strana, in attacco ha fatto fatica, tanti errori da tre punti, tante palle perse, anche troppe palle perse per una squadra che dovrebbe giocare una pallacanestro un pochino più dirigente, però è una squadra anche di talento che gioca una pallacanestro ispirata in certi momenti. In questo caso si è visto poco e soprattutto in difesa non ci ha mai capito niente contro il Tortona che fa una pallacanestro veramente godibile da vedere, piena di tagli, piena di soluzioni da fuori, se poi la unisci anche a una precisione clamorosa come quella che c'è stata oggi e poi da notare soprattutto anche il fatto di Tortona che mi è piaciuto, la capacità di avere protagonisti diversi in diversi momenti della gara. È partito Sanders fortissimo segnando tutti i tiri all'inizio, JP Macchiura attesissimo, aveva 0 su 8 all'intervallo, ha messo tutto invece nel secondo tempo, soprattutto nell'apertura di terzo quarto, dilatando il margine che è stato anche di 25-26 punti nel corso del terzo quarto. Bologna molto nervosa, i time out tremendi, parolacce, bestemmie, critiche tra i giocatori, giocatori che parlavano anche sopra Scariolo, la situazione che andrà approfondita un pochino meglio, sicuramente questo era un obiettivo molto importante, la Virtus non ha una grandissima tradizione negli ultimi anni nelle Final 8, però sicuro qui ero convinto che ce l'avrebbe fatta ad arrivare a questa grande finale contro l'Olimpia, invece obiettivo mancato direi in maniera netta. Che finale sarà oggi? Dipenderà molto ancora, sono curiosissimo, se Tortona riesce a giocare una gara come questa, vedere un attacco così bello contro una difesa così forte come quella di Milano potrebbe essere basket veramente di grande livello. Sicuramente le due semifinali sono state due sport diversi, intensità, lotta, combattimento nella prima, difesa un po' più a vista e grandi tiri da fuori nella seconda, quindi sarà uno scontro di stili completamente diverso, Milano ovviamente ha il roster infinito, ha una capacità e un'esperienza a questo livello superiore, quindi sulla carta direi che non ci dovrebbero essere grandi sorprese, però Tortona è una squadra in missione, è una squadra ben allenata, è una squadra che gioca bene, è una squadra in fiducia, è una squadra che se riuscirà a mettere in difficoltà Milano magari ancora con qualche parzialone, ancora con un po' di precisione nel tiro da fuori, potrebbe dar vita a una finale veramente emozionante, veramente divertente. Non è una novità di una finalista neopromossa le Final 8, Reggio Emilia ci riuscì una quindicina di anni fa, forse qualche 17 anni fa se non sbaglio, per cui insomma è veramente un traguardo notevole, non è così usuale, è una sorpresa, lo scorso anno la finale fu Milano-Pesaro, anche in quel caso una sorpresa e non ci fu partita. Oggi credo che invece partita potremmo averla perché Tortona è una squadra comunque diversa, sicuramente è una squadra che non si accontenterà di essere arrivata soltanto a questo punto, immagine per esempio di Mascolo che ha giocato una partita eccezionale. Io sono curioso, molto curioso e per il resto invece mi rimane questa grande sorpresa di questa prestazione Virtus così particolare, così veramente direi anche disastrosa se possiamo usare questo termine in questa circostanza. Fatemi sapere cosa ne pensate, un vostro pronostico per la finale, noi ci sentiamo in serata con il video su questa partita Olimpia-Milano contro Tortona. Intanto vi ringrazio, iscrivetevi al canale, vi aspetto, ciao a tutti, un bacio da Logs, ciao ragazzi!